Fac e Fan, se non fossero le iniziali dei cognomi dei due consiglieri regionali del PD, potrebbero far tornare alla mente la marca di un famoso detersivo, lo spicchespan, che tutto lava e tutto pulisce, proprio come ogni tornata elettorale. A conti fatti, a urne chiuse e a consiglieri eletti, quello che è stato è stato e si va avanti. L'esordio però in Consiglio regionale non è stato dei più felici, dopo cinque anni passati a parare gli attacchi dell'opposizione, il vicepresidente dell'Aggiunta regionale, Vittorino Facciolla, ha preso la parola per la prima volta in aula, nella seduta inaugurale, e ha pronunciato una frase che ha aperto la legislatura all'opposizione del Partito Democratico. Siamo d'accordo, ha annunciato scolpendo le parole Facciolla, a votare il presidente indicato dalla maggioranza, Salvatore Micone. È finita che Micone è stato eletto con i voti del centrodestra e quelli del duo del PD, ma la ditta fac e fan è rimasta a mani vuote, rivelando in un colpo solo l'inclinazione all'inciucio fin dal primo minuto della legislatura e anche la vocazione all'autogol, visto che la maggioranza non ha restituito il favore, e Fanelli e Facciolla sono rimasti fuori dall'ufficio di presidenza, per poi urlare alla luna tutta la loro indignazione. È la fotografia dello stato confusionale in cui si trova il Partito Democratico, che non ha ancora avuto tempo e modo per rimettere al centro della propria discussione interna una legnata di proporzioni esagerata e rimediata alle regionali del 22 aprile. Il caos istituzionale e la partita che si sta giocando a Roma per il Governo hanno costretto il PD, anche in Molise, a un prudente rinvio dell'Assemblea regionale, convocata per il 21 maggio e stata spostata al 16 giugno. Sul tavolo della presidente Laura Venitelli le dimissioni di Micaela Fanelli, che pur non avendole depositate, ha già fatto sapere di non volersi ricandidare alla segreteria e l'analisi del risultato elettorale. Sono in molti ad attendere l'apertura del dibattito in un clima che non promette nulla di buono, anche perché proprio dalle urne, in casa PD, sono venuti fuori scherzi e giochetti che hanno avuto come effetto ancora poco evidente un arrugginimento dei rapporti. Dall'entourage dell'ex governatore, ad esempio, non è stato ancora digerito lo zero alla casella preferenze rimediato a San Martino in Pensilis da Carmela Lalli, una delle candidate sostenute da frattura. In casa di Vittorino Facciolla, un segnale preciso lanciato forse a chi ora punta a conquistare il vertice del PD, ma dopo il primo flop rimediato in consiglio, un elemento in più sul piatto di chi è pronto a scatenare la guerra.